Amici di Vino in Vino, ciao! Siamo qui con Filippo per presentarvi una bellissima Barbera, stiamo parlando di un piacere di vino, Maggiora è il nome di questo vino, di Attilio Ghisolfi, 2007, 14 gradi, mi raccomando Barbera d'Alba, andiamo! Dai, guardiamo un po' questo vino, un bel rosso, un rosso quasi Bordeaux, ha dei riflessi anche leggermente granati, è un 2007, quindi è un vino che ha già un certo invecchiamento e dovrebbe essere super pronto, bello e consistente, invita alla degustazione olfattiva. Andiamo! Direi frutti di bosco, frutti sotto spirito, amarena per esempio, amarene, ciliegie sotto spirito. Sai cosa anche? Questa leggera nota di liquirizia. Si, si sente anche la speziatura. Esatto, tipico dei prodotti piemontesi, in particolare nella zona di Alba. Ottimo davvero, degustiamo! Bello, secco, caldo, molto avvolgente, ancora abbastanza tannico, è già pronto da bere, però davanti a sé ha ancora qualche anno anche di invecchiamento. Ha un buon corpo, è bello intenso e anche persistente, ci rimane ancora in bocca, insomma. Direi anche che il finale, ritorno un po' a quello che dicevi prima, con quel sentore di liquirizia e... E poi? Caffè dolce, direi. Un finale curioso, ottimo vino. Direi che la temperatura di servizio? 14-16 gravi. Sì, qui il chiro teniamo dai 14-16 gravi, perché ho bisogno un po' di evolvere anche nel bicchiere. E il nostro amico Valle Mazzola cosa consiglia? Beh, è un bellissimo piatto particolare da dedicare ad un grande chef, un raviolo a tuorlo d'uovo fondente alla Bergese. Amici di me, indivino! Cicin! Cicin! Ciao a tutti! Ciao!